Baciata dal sole e dalla numerosa presenza di tanti atleti di tutte le età, la prima edizione di Corsa Campestre, primo cross città di Arezzo, organizzata dall'associazione atletica Free Runners. Una occasione davvero importante per tutti gli atleti, quella di correre proprio a ridosso delle mura storiche della nostra città. È proprio un'intuizione forte quella di utilizzare lo sport come punto di forza della città di Arezzo, quindi io ringrazio Davide Faltoni per aver avuto questa idea e soprattutto perché ha dimostrato ancora una volta come lo sport è una e forse una delle più importanti leve di promozione della bellezza della città di Arezzo. Uno scenario naturale, ricordava Davide, per una prima edizione che insomma sicuramente non sarà l'ultima. La chiamiamo prima perché ce ne sarà una seconda, una terza, una quarta, è stata una prova generale, credo che sia venuta bene, delle presenze molto diffuse anche da tutta la Toscana e non solo, quindi ancora una volta Arezzo al centro dello sport ma al centro della sua bellezza. Arezzo ha tanti primati, adesso avrà anche il primato della prima Corsa Campestre, Corsa a ridosso proprio delle mura storiche. Sì, credo che sia forse una delle poche città che ha questa opportunità perché poter correre a ridosso delle mura medieci a 50 metri dalla cattedrale, insomma dal centro una Corsa Campestre che dice il nome stesso, si corre nei campi, ci dà un'opportunità unica, quindi io credo che sia una grandissima opportunità. In più vorrei dire un invito a tutti, rimane questo spazio perché nessuno ha modificato nulla, venite e portate i bambini a correre, oltre che venire a passeggiare, ma venite con i bambini e fateli correre, che qui si corre.